Il problema non è nuovo, il guaio è che ancora si ripropone il risolto. Cremona è una tra le province più anziane di Lombardia. Il suo indice di vecchiaia, pari a 187, la pone infatti al penultimo posto, appena sopra Pavia, fermo a quota 196. Meglio fanno Sondrio, Mantua, Varese, Lecco, Como, Milano, Monza e Brianza, Lodi, Brescia e Bergamo, primo, con un indice pari a 140. Lo rivelano i dati Istat, rielaborati e diffusi da infodate e sole 24 ore. Ultimo nella classe in Italia è la Liguria, che registra peraltro anche il triste primato del maggior divario tra l'imponente numero di morti e il risicato numero delle nascite. Controtendenza Napoli, Caserta e Bolzano, con l'indice di vecchiaia più basso del paese. Una situazione che per il nostro territorio comporta anche importanti costi sociali.